McDonald's vuole tè, a patto d'essere giovane e disposto a fare carriera nella gastronomia global del fast food. Oggi infatti è la giornata del Talent Day. I punti ristorazioni di tutta Italia accolgono i candidati per i mille posti disponibili offerti dalla multinazionale per il 2019. Il brand americano, diffuso in franchising da Portland Bay a Timbuktu, passando per Nairobi, vanta una filiale anche a Sassari. Difficile trovare differenze con uno degli altri 600 ristoranti presenti sul territorio nazionale. Chioschi digitali, angolo bimbi, outfit uniformato per i dipendenti e panini, migliaia di panini. Menu al passo coi tempi, le intolleranze alimentari e le proteste ambientaliste. Menu firmati da Bastianich, menu trascritti su rassicuranti lavagne insieme all'oroscopo giornaliero e al meteo per un'esperienza che rassicuri il cliente ansioso di consumare. Tre minuti il tempo massimo di consegna del prodotto, con l'obiettivo di bruciare il cronometro in un prossimo futuro. La crew, ovvero il team di cucina, guidato dal manager, a sua volta ex manovale del dietro le quinte McDonald's, che da par sua ambisce al ruolo di direttore e segue a memoria un percorso di accoglienza e soddisfazione utenza. Lo schema viene dalla casa madre, diffuso con master e full immersion ed applicato giorno per giorno fino all'automazione. Il segreto del successo McDonald's, al di là della politica di sorrisi e braccia aperte da parte dei gentilissimi manager, rimane tale. Vietato agli estranei a entrare nelle cucine o discutere di informazioni sensibili. Il modello non va in franto. Per gli aspiranti armati di curriculum che si sono presentati nell'area McCaffè davanti a un guest experience leader, ovvero un interno di lungo corso, questo sarà il primo insegnamento. McDonald's è una fede immutabile da non tradire.